Le candidature per le primarie che individueranno il candidato sindaco al comune di Bari della coalizione di centro-sinistra dovranno essere presentate entro il 24 gennaio, ovvero un mese prima della data fissata per le primarie. Lo ha reso noto la segretaria cittadina del Partito Democratico di Bari, Anna Tamborrino, dopo il tavolo tecnico che ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri, ricordando che il lunedì 23 dicembre verrà ratificato il regolamento. Le forze politiche della coalizione di centro-sinistra hanno trovato un accordo largamente condiviso su alcuni punti che caratterizzeranno il regolamento stesso. La candidatura, scritta in una nota della segreteria, dovrà essere accompagnata da un numero minimo di 1.500 firme di cittadini baresi fino ad un massimo di 2.000. La quota stabilita per gli elettori che vorranno partecipare alla tornata elettorale è di 2 euro, tranne che per gli under 20, fatta salva l'età minima di 16 anni per votare, che pagheranno solo un euro, così come gli over 75. Il giorno delle primarie i cittadini che si recheranno alle urne potranno esprimere non solo la preferenza per un candidato, ma anche le proprie esigenze, priorità e idee per la Bari del prossimo futuro, che integreranno il programma della coalizione di centro-sinistra e del candidato sindaco, una sorta di primarie e delle idee che valorizzeranno ancora di più un momento già di per sé all'insegna della democrazia partecipata. Grazie a tutti.